Grande partecipazione stamattina presso la Chiesa Madonna delle Grazie di Agropoli per i funerali del professor Antonio Crispino, padre dell'ex sindaco di Agropoli Luigi Crispino, del comandante della Polizia Municipale Maurizio Crispino e dell'assessore all'identità culturale Francesco Crispino. Tante persone, autorità politiche, militari e religiose hanno partecipato alla cerimonia funebre in onore del professore che era anche cavaliere della pubblica istruzione ed aveva insegnato presso le scuole elementari di Agropoli. Proprio nella sua amata scuola ha lasciato un segno indelebile agli alunni e ai colleghi che hanno riconosciuto in lui un modello di insegnamento ineccepibile ed era considerato un uomo buono, generoso, attento, premuroso, discreto, umile ed incredibilmente sensibile.